Sindaco, la conferenza dei sindici non si è svolta per mancanza del numero, però una chiacchierata informale sarà fatta con l'ASL. Per riassumere il concetto di tutti i sindaci del territorio, quello forse di un bisogno di una maggiore vicinanza, di una maggiore collaborazione con l'ASL? Sì, diciamo che comunque il risultato c'è stato, è un risultato positivo perché in maniera, anche se non rispettosa delle procedure, perché purtroppo il quorum è mancato e c'è anche una giustificazione, in effetti ci sono dei sindaci che vengono da molto lontano, poi la giornata sicuramente non ha favorito perché sappiamo che c'è stata questa bomba d'acqua che ha sconvolto un po' il nostro territorio, però diciamo che il risultato è stato buono perché c'è stata anche la possibilità comunque di parlare. L'ASL era ampiamente rappresentata, non c'era il direttore, ma l'ASL è stata ampiamente rappresentata in maniera assolutamente qualificata e quindi abbiamo avuto l'occasione di poter confrontarci su tematiche come quelle a cui facevi riferimento tu e cioè su una necessità anche di una maggiore condivisione, ci sono temi importanti, ci sono questioni che sono state sollevate e avremo occasione l'8 di ottobre, magari utilizzeremo lo strumento della videoconferenza per consentire a tanti sindaci che sono lontani di poter gestire questo incontro in maniera più agevole, avremo occasione di ribadire quello che si è detto e approfondire questi temi e cercare delle strade che devono proiettarsi verso il futuro. Io continuo a dire che l'ASL ha fatto un lavoro fantastico, abbiamo lavorato tutti in un periodo di grande emergenza, ci siamo rapportati in maniera direi ottimale, i risultati vediamo quelli che sono, però adesso dobbiamo immaginare il futuro. La vicinanza c'è da tanti anni, questo è un processo che è maturato negli anni, quindi come avete visto c'è un'ampia rappresentanza di tutta l'ASL, i colleghi per essere presenti oggi, insomma hanno lavorato per preparare i dati, insomma c'è stato poi un fatto interlocutorio perché poi i debiti istituzionali vanno rispettati, quello della conferenza ma anche quelle esterne. Però l'ASL si muove sempre in un contesto di condivisione e nel bene della popolazione, su questo non c'è nessun ombra di dubbio. Anche la dottoressa Sera l'ha sottolineato, la squadra dell'ASL Roma 4 lavora? L'avete visto, qui c'era il gota dell'azienda, c'era il gruppo, lo zoccolo duro dell'azienda, c'erano i nostri primari, insomma. Tra l'altro abbiamo fatto una campagna acquisti di primari veramente eccellenti che ci invidia tutta Roma. Io personalmente sono nell'ottica che laddove ho la possibilità di migliorare sono sempre accogliente rispetto alle situazioni. C'è sempre qualcuno che mi può insegnare qualcosa, magari qualcuno può imparare qualcosa da me. È uno scambio continuo, io la vedo proprio come una cosa osmotica il lavoro che facciamo.